È una strana collaborazione questa, che sembra nascere, sia per le tempistiche che per il fatto che la WWE è comunque di proprietà di una federazione che amministra anche la UFC. Sì, Bloodsport che fa parte, in realtà è il nome di un evento che fa parte della, se non sbaglio si chiama Game Changing Wrestling, fa parte di un'altra federazione che per ora ha solo questa Kermess, ci sarà la decima edizione ad inizio aprile. Ecco, comunque all'interno, chiamiamola di questa entità, ci sono dei match che assomigliano molto a Raw Underground, così spiego anche a chi non lo sapesse di cosa si tratta. Quindi c'è un ring senza le corde, privo praticamente della struttura sovrastante e si combatte, diciamo come lo si faceva, agli albori delle arti marziali miste. Si può vincere per KO, per sottomissione o per KO tecnico, quindi per decisione arbitrale. A guidare questa promotion c'è Josh Barnett, che è un ex campione UFC e si dice che sia anche un grande amico di Triple H. Ora, io quando vedo questi mischioni tra wrestling e sport da ring concreti, rimango sempre un pochino sul chi va là, perché ho in mente gli anni dell'inocchismo, ve ne ho parlato qualche tempo fa, che hanno procurato in Giappone un'ibridazione pessima, assolutamente brutta per me da vedere. Ma qui non c'è questo pericolo, perché WWE fornirà a Bloodsport praticamente gente che sa lottare, gente che ha un background reale, concreto. Il primo nome che si sta facendo è quello di Shanna Basler. Quindi non ho ancora mutuato un'idea chiara su cosa salterà fuori da tutto questo. Può essere anche per WWE una verifica per capire se quella tipologia di evento funziona, perché anche loro hanno provato in qualche modo, in maniera forse un po' scomposta, come filosofia ad inserirla nei loro show. E intanto si dà l'opportunità a chi è preparato, oltre al pro wrestling, di fare qualcosa che può tenerlo occupato e dargli gioia. E quindi mettere in luce, mettere sulla piazza le sue altre competenze guerriere e chissà magari farsi anche un nome positivo che va oltre la WWE. Poi, se col tempo questa disciplina, questo modo di proporre i match e gli incontri ha o avrà grande successo, è già in calendario un evento speciale in Giappone, ebbè WWE, UFC o TKO sopra di loro se ne possono facilmente impadronire. Certo, nel passato c'era una sorta di porta blindata. Non volevano che i propri atleti, quelli della WWE, collaborassero con l'esterno, però abbiamo visto che sotto la guida di Triple H invece questo è successo. Ad esempio con Shinsuke Nakamura in Giappone, per il tour di ritiro di The Great Muta, aprendo un corridoio di collaborazione che ha portato poi quel wrestler ad entrare nella Hall of Fame e che ha aperto probabilmente altri canali sotterranei di marketing. Quindi io la vedo così, questa roba. Una situazione nella quale WWE ha solo da guadagnarci. Lato wrestler, lato sperimentazione, lato agganci e lato, qui parliamo TKO, imprenditoriale. Non siamo noi a rischiare, non siamo noi a metterci la faccia, vediamo questi cosa fanno, ebbè se hanno trovato una strada giusta, con la forza aziendale che abbiamo possiamo inserirci come e quando ci pare. O magari diventare partner in futuro, quindi approfittare del know-how già coltivato e aumentare le opzioni di proposta con una terza sigla da portare avanti. Perché no?